Mister, si chiude la stagione con un pareggio contro il San Gregorio, contro insomma una squadra d'alta classifica, vantaggio ospite nel primo tempo, poi grandissima reazione della sua squadra nella ripresa, è arrivato il pareggio. L'avete vista la partita? Sì, era una partita difficile, San Gregorio sappiamo il potenziale, conosciamo bene la squadra, quindi ci aspettavamo una partenza forte da loro, infatti è stato così, anche se noi con una leggera disattenzione abbiamo preso gol, però poi ci siamo un po' risistemati, i ragazzi hanno oggi rifatto una grossa prestazione secondo me pareggio è meritato, poi potevamo vincere noi, poteva vincere anche San Gregorio, però credo che sia giusto così insomma. San Benedetto Venere che saluta appunto questo campionato Mister con una grande prestazione, onorando il campionato fino alla fine. Sì, sì, è la nostra intenzione giocarcela fino alla fine, dare il massimo fino alla fine, lo merita la società, lo merita questa stupenda tifoseria che ci accompagna sempre, anche nei momenti difficili, devo dire che ci sono stati sempre vicini, mi sembra un settimo posto, è stato un anno difficile sinceramente, dopo la stagione entusiasmante dell'anno scorso che siamo arrivati primi, quest'anno era molto difficile riconfermarci, un po' di problemi interni ci hanno un po' condizionato, però sia io che il gruppo squadra che la società abbiamo cercato sempre di dare il massimo e credo che anche quest'anno abbiamo fatto un buon lavoro. Mister, il San Gregorio che chiude al terzo posto e con un pareggio questa stagione, tra l'altro partita molto bella nonostante il maltempo, vantaggio vostro nel primo tempo, poi reazione del San Benedetto nella ripresa, ma anche voi nel secondo tempo avete avuto delle occasioni molto molto nitide. Sì, forse ai punti meritavamo di vincere, però c'è da dire che San Benedetto ha fatto un grandissimo gol con Catalli se non mi sbaglio, quindi dobbiamo accettare il risultato, però sono molto soddisfatto perché la squadra ha giocato sempre, non si è mai tirata dietro, non si è mai intimorita e ha fatto veramente una grande prestazione. Bilancio in generale, Mister, un campionato avvincente, insomma voi ci avete provato fino alla fine anche oggi onorando il campionato. Assolutamente sì, un campionato, un cammino straordinario da parte nostra con tutto questo gruppo di ragazzi con unità media molto giovane, ci hanno dato grandi soddisfazioni, peccato, andiamo a casa con un rimpianto perché comunque a Montorio in vantaggio 3-0 non dovevamo farci raggiungere, però sono peccati di gioventù, poi la partita con il Pizzoli anche lì è stata un po' stregata, però noi siamo contentissimi perché comunque chiudiamo a 51 punti che è un grande bottino. Ed è un bottino diciamo dal quale ripartire il prossimo anno, Mister. Sì assolutamente, poi comunque partecipiamo ai playoff, adesso ci sarà questa bellissima partita con Lugo De Marsi e quindi ci divertiremo ancora sì.